freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free ma sempre più in rete una specie di capodanno dei freelancer allora non vedo in giro carola baratella ti ho persa carola carola ma sì bravissima brava 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 e carola che ci parla di marketing e business design con il coaching dei valori non è vero ha modificato in corso d'opera allora il nuovo titolo ha disegna la tua vita con i tuoi valori perché volevo fare un esercizio perfetto disegna disegna nel senso di design ma proprio nel senso di disegna bene proprio nel senso di disegna quindi se avete per disegnare o scrivere perfetto tanto sono emozionata perché sono qui dopo cinque anni torno dopo cinque anni e cinque anni fa ricordo di aver risposto all'intervista che avevate fatto e c'era una domanda che diceva come ti vedi fra cinque anni quindi eccomi sì e quindi eccomi qual è la tua visione fra cinque anni e mi vedevo a un risposto dicendo che mi vedevo con una mia agenzia di marketing avviata con un fantastico team fully remote quindi sarà il mio obiettivo e di fare uno speech al freelance camp qui sullo speech ci sono e sulla sull'agenzia di marketing invece no ho cambiato la visione nel corso degli anni perché in questi cinque anni ho ragionato molto su quelli che erano i miei valori destrutturando e ristrutturando tutto il mio sistema di valori i miei obiettivi e quella che è la mia missione quello che sento di voler fare quindi oggi sono professional coach ancora consulente marketing ma non è più il mio obiettivo avere una un'agenzia negli interventi precedenti si è parlato di valori in termini economici però sono contenta che se ne è già parlato quindi è già stato introdotto il tema vi volevo chiedere chi tra voi vuole provare a dire cosa sono i valori in senso ampio la cosa è molto importante nella vita per te ok i principi fondamentali che regolano il modo in cui puoi vivere nel senso sono sotto quelli no senza quelli no senza quelli no quindi una base io per confondere un po le cose direi tutto quello per cui siamo disposti a fare un sacrificio ok perfetto e effettivamente i valori rappresentano chi siamo e come viviamo il modo in cui viviamo guidano quindi le nostre azioni le nostre scelte le relazioni che scegliamo il lavoro che scegliamo è tutto quello che facciamo nella vita di tutti i giorni fanno parte di un sistema psicologico che ci appartiene come esseri umani che quindi è abbastanza complesso ed è interconnesso sono interconnessi quindi con le credenze le abitudini gli atteggiamenti i comportamenti le emozioni quindi questi sono fattori interni alla persona ma si creano anche in relazione a fattori esterni quindi alla cultura di riferimento alle relazioni ai ruoli che abbiamo nella società e l'ambiente di lavoro quindi appunto dipendono da fattori interni e da fattori esterni chi non ha mai vissuto la sensazione di non essere nel posto giusto nel lavoro giusto o in una relazione giusta alzi la mano questo può succedere quando i nostri valori desiderati quindi quello che è la base i valori base per noi sono disallineati con i valori che stiamo vivendo e questa dinamica si genera molto spesso quando il nostro io entra relazione con l'altro quindi nel momento stesso in cui si genera un qualsiasi tipo di relazione vi porto esempio di una persona con cui ho lavorato negli ultimi mesi quindi abbiamo fatto un percorso di coaching e lei aveva bisogno di cambiare lavoro voleva essere impulsiva ma capiva che non era la scelta giusta quindi basta voglio lasciarlo non mi sento più bene in questa in questa agenzia me ne voglio andare però non era la scelta saggia e quindi insomma abbiamo lavorato su questo e siccome il suo obiettivo era prendere tempo cioè quindi cambiare lavoro ma prendere tempo e trovare un modo per rimanere in quella società abbiamo lavorato proprio sui valori e sull'allineamento fra i suoi valori ci abbiamo individuato il sistema dei suoi valori personali abbiamo individuato quelli della società per cui lavora e abbiamo cercato di individuare dei punti in comune per trovare il modo di restare in quel momento e vivere al meglio la situazione di cambiamento e quindi niente c'è stata questa esperienza che ha mostrato l'importanza di focalizzarsi su un sistema di valori e di averlo in mente vorrei fare un esercizio con voi vi chiedo di scegliere 10 valori per voi importanti ok se ci siete con questi 10 valori adesso vi chiedo di raggrupparli dividendoli per valori economici o pragmatici cioè tutti quei valori che ritenete siano legati a dei risultati al raggiungimento dei risultati può essere la realizzazione professionale la puntualità eccetera eccetera non so adesso che altro poi un gruppo etico quindi tutto ciò che è correlato a norme società ambiente e poi un altro gruppo che è il gruppo emotivo che sono diciamo i valori più alti più individuali forse famiglia amore vi chiedo di disegnare un triangolo equilatero dove ai tre punti ai tre ai tre angoli mettete i tre gruppi quindi economico le tre parole etico ed emotivo all'interno del triangolo fate convergere tre linee su ogni linea scrivete i numeri da 1 a 10 a partire dal centro delle tre dove convergono le tre linee quindi ora mettete un pallino sul numero corrispondente al numero di valori che avete assegnato per ogni gruppo quindi se ok chiaro se al gruppo economico avete segnato quattro valori mettete il pallino su quattro e poi unite i pallini ok ok questo è una parte dell'esercizio per farvi avere una fotografia del sistema del vostro sistema di valori iniziale questa è una prima fotografia dopodiché l'esercizio continua andando a scremare quelli che sono i valori individuati per lavorare solo su quelli che sono i valori che voi volete migliorare incrementare portare nella vostra vita quotidiana e questo è un diciamo è il modello triassale studiato da simon dolan che è il padre del coaching dei valori che viene utilizzato per ristrutturare i propri valori in relazione a puntini puntini a l'ambiente di lavoro al partner alla famiglia gli amici quindi per cercare di trovare un allineamento fra noi fra i nostri valori e quelli degli altri grazie e quindi Grazie a tutti.